Tieni conto che gli anarchici storici che io ho conosciuto Torino erano dei grandi lettori, ma leggevo di tutto, non soltanto i testi sacri dell'anarchismo, qualcuno ne compagnia, ma persino Topolino. E quando gli chiedevo, c'era un compagno che veniva dalla guerra di Spagna, gli dicevo ma non lo capisco questa roba qua, ma devo essere informati di tutto, perché altrimenti ti foto. Grazie a tutti.